Vittoria Out of Beat Dopo la Azi Roma Alpha 3 Che abbiamo recensito circa una dodicina di giorni fa Il team di sviluppatori di Azi Rilascia Azi Beta 1 Una beta davvero molto stabile Infatti troviamo pochissimi bug Ma troviamo moltissime novità Andiamola a vedere insieme Allora innanzitutto sono stati implementati nuovi QuickToggle Simili a quelli della Paranoid Quindi con un doppio, doppio, triplo e così via Pannello E ridisegnati ovviamente dal grafico Adriano Loiacono Che secondo me ha fatto un ottimo lavoro Poi abbiamo una nuova Azi App Chiamata Azi Center Nel quale potremo trovare tutti gli articoli del blog Tutte le info sul device Quindi la memoria totale I giga disponibili E quelli occupati Poi un po' di info Il nome della marca Il dispositivo Ok Poi abbiamo un'app manager Whatsapp Posso disinterrarlo Copiare la pick up E la SD card Qui non ce l'abbiamo Oppure possiamo avviare Whatsapp O i contatti Qui abbiamo tutti gli sviluppatori O collaboratori della ROM Davide Dell'Ai Adriano Loiacono Francesco Collella Matteo Lobello Matteo Munda Salvatore Festa Sottoscritto Luca Pensa Bene Davvero Un team che occupa le proprie giornate A sviluppare ROM Nonostante abbia chi lavora Chi studia E così via Un team molto vario Andiamo nelle impostazioni Impostazioni del tutto simili Alle A Scusate il raffreddore A quelle della volta scorsa Abbiamo di più Whatsapp Che sono le notifiche In stile Android Hall La di notifica Che ha ancora buggato Purtroppo Così come è buggata Il Ah abbiamo poi I quick setting rapidi Attivati da sinistra O da destra Molto comodi Ecco E abbiamo i doppi tap E spegni Ma li avevamo Anche prima Ok Che altro dire Allora Le Android ci arriva Con la versione 4.4.4 Davvero molto veloce Sono stati disegnati Anche i soft case Che adesso sono Più rotondi Più in stile Più belli Più rotondi E Niente Troviamo poi Azi Voice Ah E vi ricordate il pannello Per attivare Google Now Adesso possiamo metterci anche Azi Voice Davvero comodo Per chiunque volesse Allora Altre novità Andiamo Su una Tab Di Chrome Nuova scheda E Come puoi vedere La tastiera È bianca Molto bello Il bianco Sua tastiera Davvero Una tastiera Molto più Soft Quella che hanno I giapponesi Google Infatti I giapponesi O cinesi Non mi ricordo Offro la tastiera Di colore bianco Qui Azi L'ha implementata Per tutti Davvero Molto bella Veloce Fluida Ciao Come stai Sto recensendo La Chrome Azi È davvero Molto veloce Dicevo È comoda Cos'altro E niente Questi Stanno Azi Porta con sé Anche un pacchetto Di gapps Per far funzionare Bene la tastiera Le Azi Gapps Molto belle Sono le stesse Gapps Della Paranoid Solo che La tastiera Di Azi È principale Quindi non bisogna Cambiare O fare cose Strane Ok Abbiamo detto Tutto Abbiamo introdotto Anche Hanno introdotto Scusate Anche I pannelli Blu Nelle notifiche C'è chi piace C'è chi non piace Vedremo come reagirà Il team Ai feedback Negativi Di questi Pannelli Ok È davvero tutto Prea Le dimenticavo Introdotti Scusate Ogni tanto Le dimenticanze Possono essere Come direbbe Il nostro Tony Saufa Come ne frega un cazzo E il grandissimo Tony Lo salutiamo Azi Waltz Sono stati Aggiornati I wallpaper Davvero Molto Belli Eccoli qua Aggiornati Molto carini Devo dire Adriano Ha fatto davvero Un buon lavoro Mettiamo questo qui Che c'è DJ Ecco Ok Da Giovanni Galli È tutto Per autosbeat.it Ciao ragazzi Ci vediamo